Davalo lezioni di spaccio ad alcuni minorenni che avrebbero poi smerciato la droga ai propri coetanei. Insomma, una vera e propria scuola di pusher, emerso anche questo dall'operazione che ha sgominato un traffico di sostanze stupefacenti dal napoletano alle località balneari della costa cilentana. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri di Torre del Greco, che in un'operazione scattata la scorsa notte hanno arrestato 25 persone. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia catelare emessa dal GIP di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio di stupefacenti. L'associazione criminale aveva come base la città torrese. I componenti si dedicavano all'acquisto attraverso fornitori legati ai clan camorristici, giunta e falanghe, al trasporto di enormi quantità di cocaina, hashish e marijuana. Gli stupefacenti venivano poi spacciati nella zona e nelle località balneari del Cilento, dove potevano fare affidamento su una fitta rete di pusher. Il motore dell'organizzazione era costituito da due coniugi di Torre del Greco, che per eludere i controlli della polizia giudiziaria si servivano anche dei quattro figli, tra cui tre minorenni, per l'acquisto e per lo spostamento dello stupefacente. In uno dei tanti trasporti di sostanze verso il Cilento, in particolare, la sostanza venne occultata dal figlio tredicenne, tratto in arresto in flagranza nel corso delle investigazioni con altre cinque persone per singoli episodi di detenzione e spaccio.